Basta poco per veder vanificato il lavoro di anni. Catene di fornitura, perdita di fatturato, sicurezza sul lavoro, normativa ambientale, rischio informatico. I rischi specifici che affronta la tua azienda sono aumentati notevolmente. A risponderne con il proprio patrimonio personale possono essere imprenditori e amministratori. Ci avevi mai pensato? Avere una o più assicurazioni non basta più. Oggi la legge richiede di dotarsi di un modello di gestione dei rischi. Come ottenerlo? Con Risk Detector. Una mappatura personalizzata dei rischi della tua azienda che ti aiuta a prendere le decisioni sulla loro gestione in modo consapevole. Risk Detector analizza il contesto, identifica i rischi, definisce l'impatto, fissa le priorità e individua le soluzioni. Perché usarlo? Perché ti permette di decidere, con la diligenza necessaria, di attenuare gli elementi di responsabilità e di risparmiare davvero. Il tutto in pochi semplici passaggi. Che aspetti? Risk Detector. Scegli la rutta più sicura.